Si profila un aumento di circa il 40% per la Tari, la tassa su rifiuti solidi urbani a Gela. A giorni la giunta municipale porterà l'argomento in aula consigliare e poi toccherà ai consiglieri valutare l'ipotesi del voto favorevole all'atto. C'è stato modo di confrontarsi più volte sulla questione nel merito e nei costi e siamo convinti fermamente che il senso di responsabilità maturato dalla consapevolezza che il servizio ereditato non è perfetto e non è adeguatamente coperto siamo convinti che il loro senso di responsabilità permetterà di adeguare le tariffe per come giusto rimodulate per i vari settori. Nell'istante in cui noi diciamo con il senso di responsabilità e siamo convinti che altrettanta responsabilità avrà il Consiglio Comunale di approvare una tariffa e quindi un costo reale così come già poc'anzi diceva il Vice Sindaco è chiaro che poi è inevitabile. Il piano economico finanziario per l'anno in corso prevede un costo del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti non inferiore ai 10 milioni di euro. Lo scorso anno l'Aula scelse di non votare l'aumento proposto dalla neoggiunta del Sindaco Domenico Messinese. Noi oggi abbiamo un livello di raccolta differenziata da grosso modo intorno al 30-35%. Questo è un livello di differenziata che di fatti non consente di avere quei risparmi necessari per ridurre la tariffa. Dobbiamo raggiungere un obiettivo che è quello del 60-65% di raccolta differenziata. Solo in questi termini avremo seriamente una scorta riduzione. Per cui ancora oggi continuo a vedere, a verificare, ma lo riscontriamo tutti, che probabilmente o non si ha la necessaria attenzione o non si ha neanche la voglia. Io penso che dovremmo tirare fuori in ognuno di noi la voglia e la volontà. E non solo per un fatto di tariffa o di riduzione di quelli che possono essere 40-50 euro l'anno in più o in meno. Ma il tema è che dobbiamo pensare al futuro di questa città e alla pulizia di questa città. La raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge, ma è un diritto e un dovere di ogni cittadino. Abbiamo messo in evidenza che i costi in aggiunta al capitolato sono dei costi che in realtà servono per coprire l'ordinarietà del servizio progettato in maniera non adeguata e questo deve essere coperto con la Tari, che verrà sicuramente rimodulata. Ma per quale motivo si aumenta? Si aumenta perché i costi del servizio sono alti. Sono alti perché il territorio non sta rispondendo adeguatamente all'aumento della percentuale di differenziata, che è un obbligo di legge e che è l'unico modo per attenuare, per ridurre i costi del servizio.